Ragazzi prima di cominciare con il video, se questo video raggiunge almeno i 4.000 mi piace entro 24 ore Vi farò uscire un video pazzesco di come migliorare la grafica di Fortnite Quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Che siamo quasi ai 70.000 iscritti Iniziamo con il video Ehi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui da Ramp e Geromali Oggi sono tornato qua con un nuovo fantastico video Ragazzuoli, dato che in tantissimi avete notato il mio netto miglioramento con il pompa Dato che prima ragazzi missavo davvero tantissimi colpi con il pompa Adesso ne missavo davvero molto ma molto meno E ho deciso di fare questo video, questo video per spiegarvi di come fare quasi sempre 200 di danno ragazzi Con il pompa ovviamente se si utilizza uno spas Tutto ragazzi ciò che vi servirà è guardare tutto il video Perché darò tantissimi consigli su come migliorare la mira con il pompa ragazzi Quindi prima di farlo mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E condividete questo video con tutti i vostri amici Detto ciò ragazzi come potete vedere sono in creativa Adesso ragazzi pian piano vi dirò anche perché c'è quel personaggio lì Guardatelo che carino Vi spiegherò tutto con calma Allora ragazzi la prima cosa che vi voglio far vedere è questa Ok c'ho un combat qua La prima cosa che vi voglio vedere è questa Aspettate Ok va bene questa Allora solitamente capita che c'è il nemico che si va a chiudere dentro il box ok Solitamente uno cosa fa adesso Solitamente fa questo ok Oppure lo fa per così cambia poco ragazzi cambia poco perché uno è convinto che l'edit migliore sia Questo oppure questo cioè ci sono due tipi di persone Io sono uno che edita sempre così vedete dall'alto verso in basso che comunque sia Molti dicono che sia sbagliato perché così la visuale ti punta i piedi dell'avversario e non la parte superiore Certi dicono che è meglio fare così Ce la posso fare? Che è meglio far così e poi vedete se siete già all'altezza dell'avversario Cambia poco questo ragazzi cambia poco La cosa che vi voglio far capire è che comunque sia la nostra mira non è sul nemico Cioè nel senso noi possiamo editare così Però vedete non è sul nemico Se è così non è sul nemico Qual è l'edit migliore da fare per aver già il mirino puntato sul nemico Se il nemico si ritrova al centro del box Questo ragazzi questo qua è il migliore Vedete finite l'edit su questo E avete già il mirino bello bello puntato sul nemico Quindi ragazzi questo sarebbe l'edit migliore che esista Perché finiamo di mirare che è qua capito? È già qua Ed è una cosa veramente utile ragazzi Questo è il primo consiglio che vi volevo dare Sempre riguardo all'edit Perché ragazzi al 90% delle volte che si fighta con un nemico Lui si rinchiude in un box Come si fa a giocarsela bene ragazzi Per diciamo Uccidere il nemico che c'è all'interno Come ragazzi? Allora una volta Se facevi questo Eri un gran figo Ok? Facevi questo Eri un gran figo Cioè se andate a vedere i miei video di un anno fa Facevo Cioè clippavo kill Che facevo tac E uccidevo l'avversario dentro Adesso una cosa del genere Non è neanche più clippabile È una cagata assurda Ok? Bene Adesso va molto Però ormai è anche una roba troppo scontata A fare questo Ok? Una roba troppo scontata In linea di massima Si può fare quello che vi ho detto prima Ovvero questo edit Ok? Invece raga Ho notato una cosa Che è stra funzionante Ovvero gli edit Più strani sono Più l'avversario non se li aspetta Esempio Questo edit Vedete? Cioè L'avversario non Non capisce sta cosa Quello che vi voglio dire raga È questo Non so se voi capite Che il Allora Voglio partire da sta cosa Vedete il mio personaggino? Ok? Tiene il pompa Con la mano destra Ok? Sta impugnando il fucile a pompa Con la mano destra Quindi se io mi affaccio da qua Vedete Che io lo sto mirando Se io mi affaccio di qua Vedete che devo uscire proprio con tutto il corpo Mentre qua no Vedete che ho il corpo dietro la struttura? Perché qua non ce l'ho Totalmente dietro la struttura? Perché il pompa è nella mano destra Quindi ragazzi Cercate sempre E dico sempre Di spurgervi sulla parte destra Esempio Aspettate eh Ma mi so Rimabmento Allora Così Ok? Vedete? Io adesso se mi sporgo Ho il corpo che per metà è dentro Mentre qua Per sporgermi Sono totalmente scoperto Quindi ragazzi Dovete anche tenere conto questa cosa Il nostro personaggino Tiene in mano il pompa Nella parte destra Quindi con la mano destra Sì quindi se noi ci sporgiamo Vedete Siamo per lo più coperti Ok? Qua invece ragazzi Non saremo mai coperti Vedete? Devo proprio totalmente uscire Vedete che il personaggino Non è dentro Quindi Quello che vi voglio far capire Cercate di fare i dit strani Cercando di spurgervi Sulla destra Esempio Ok Ora mi hai preso Vedete? Non mi prende Perché sono Sono poco fuori Vedete? Sono poco fuori Invece di qua Vedete? C'ho tutto il corpo fuori C'ho tutto il corpo scoperto Questo è quello che vi volevo Far capire ragazzi Questo è una cosa che vi volevo Appunto spiegare Perché è stra utile Perché in molti ragazzi In box fight Anche quelli più forti di me Riuscivo a fregare Facendo questa cosa Vedete che Se mi sporco a destra Sono coperto Se mi sporco a sinistra Sono totalmente scoperto Secondo consiglio Che vi voglio dare ragazzi È che Io sta cosa Non la capivo Non capivo Che sensibilità usare Eccetera Adesso vi voglio fare Un bel discorsetto Sulla sensibilità Adesso vi faccio vedere Questa è la mia sensibilità Ok 48-50 Poi questa è quella di merino E questa è la zona morta Ora vi voglio spiegare Perché ho usato 48-50 Ragazzi La sensibilità migliore Per non messare colpi Sarebbe dai 40% Ai 52% circa Perché? Perché se abbiamo 40% Perché io non ho messo 40% Perché è troppo bassa Cosa succede? Se minore è la sensibilità Sì Meno misseremo Perché ragazzi È ovvio Se la mira è bassa Cioè la sensibilità È bassa Adesso vi faccio vedere Vedete Se la sensibilità è bassa Logicamente dire Cioè è logico dire Che si misseranno Molti meno colpi Però Se la sensibilità È alta Ad esempio Mettiamo un 60 Faccio vedere Un 68 Vedete? È veloce Ok? È veloce Però Sicuramente Si misseranno Molti più colpi Perché sta roba Della velocità Adesso ragazzi È difficile farvela capire Senza un nemico Concreto davanti Però Vedete? Sarà più difficile Beccare un nemico Logico Logico Quindi raga Cosa Che vantaggi Che vantaggi vi dà Avere una sensibilità Elevata Vi dà i vantaggi Che avete più reattività Ad esempio Se uno vi spara dietro Voi fate così Vedete Siete già girati Quindi Sensibilità alta Vi dà più reattività Sensibilità bassa Vi dà più mera Cosa dovete fare A parere mio Tenere la sensibilità Dai 40% Ai 52 massimo Io ad esempio Sto usando 48 e 50 Adesso mi spiegherò Anche perché 48 e 50 Comunque Come potete vedere 48 ragazzi È una sensibilità Che vi va Cioè vi dà Una buona reattività E sicuramente Una buona mira Perché ragazzi Avete visto prima Non mi stavo neanche un colpo Contro questi Che Queste sagome Ragazzi Non hanno Mira assistita Perché non sono delle persone Quindi non hanno neanche Mira assistita Non ho missato un colpo Perché ho 50 in verticale Adesso vi faccio vedere Vedete ad esempio Questo mino Ok Fate finta che è un altro player Se io Vedete Questa è quella orizzontale Questa è quella verticale Leggermente più alta Perché Perché ragazzi Vedete Il corpo alla fine È fatto a T Il corpo è un a T Ok La testa è più in alto Rispetto al normale La normale parte centrale Quindi cosa succede Doviamo sempre avere Un minimo di verticalità Cioè Di sensibilità verticale in più In modo tale Che noi Vedete Siamo un po' più reattivi Ragazzi Se utilizzate una sensibilità orizzontale Tipo 48 E una verticale 50 Noterete che vi entreranno Molti Ma molti Più Più colpi In testa Perché appunto È dovuto al fattore Che vi ho appena spiegato Il corpo è una T La nostra velocità orizzontale È questa Quella verticale Se leggermente più alta Ci capiterà spesso Di fare così Quindi di fleccare E il colpo entrerà In headshot Adesso c'ho anche Il pompa scarico Però spero che questo consiglio Vi possa essere d'aiuto Provateci Fatemi sapere Nei commenti Va bene anche 40-42 Se volete Una reattività bassa Per una bella mira Potete utilizzare 45-47 Insomma ragazzi Sbizzarritevi Come meglio potete Sbizzarritevi Il mio consiglio Che sto per darvi Ragazzi Invece Se volete Allenare la vostra mira Come fare per allenare La vostra mira Semplice Vedete che c'ho Un mirino Lo vedete Il mirino Logico Ecco Questo si chiama Reticolo Il reticolo Noi lo possiamo Disattivare E ora voi direte Perché devo disattivare Il reticolo Adesso vi faccio vedere Vedete Il reticolo No Ok Vedete il mirino Non c'è più Perché io vi faccio Togliere il reticolo Fatelo ovviamente In creativa Non in pubblica Mentre giocate magari box fight Con un vostro amico E giocate senza il reticolo Perché Voi dovete riuscire A capire A conoscere La dinamica Dei colpi Ad esempio Ragazzi I colpi pompa Vanno esattamente Dove voi state guardando Io adesso vedo La testa del Del bot Ok Vedete Headshot Perché è entrato Sto headshot Perché il colpo pompa Va esattamente Dove voi state guardando Ricordatevelo sempre Questo concetto Solo che questo concetto Ragazzi Va capito Dopo un po' Che farete prova Appunto Senza questo reticolo Perché ragazzi Il reticolo Fidatevi Che È ottimo Logico È un aiuto Però se voi vi abituate Senza Quando poi lo mettete Siete delle bombe Siete delle bombe Fidatevi raga Alla fine Io ve l'ho detto Il colpo pompa Va sempre dove voi state guardando Io ad esempio Adesso guardo il Vediamo La testa di questo qua Ok Adesso calcolate che la visuale Vedete Tende ad alzarsi Per con l'analogico rotto Quindi potrebbe anche Non entrare il suo colpo Però guardate Vedete Cioè raga Alla fine Il colpo Ricordatevi che va sempre Dove voi state guardando Quindi allenatevi in box fight Con un vostro amico In creativa Senza l'utilizzo di questo reticolo E provate a vedere i risultati Un'altra cosa che vi voglio far vedere Ragazzi Quando mirare con il pompa E quando non Perché questa cosa È molto Diciamo Non capita dai player Vi spiegherò Adesso In breve Allora Vedete Se siamo in questa distanza Voi cosa fate Mirate O Sparate in no scoop Adesso vi faccio vedere Cercherò di prendere Vedete Ok 65 Va bene Provo mirando 70 Ok Avete visto Perché il danno Va ad aumentare I colpi pompa Su questo gioco Hanno una dinamica Ovvero che noi Quando spariamo I colpi Si separano Ok E coprono Un raggio Quel raggio Si chiama Bloom Avete mai sentito Parlare del Bloom Dell'arma Ecco Questo raggio Che viene coperto Dal pompa Ragazzi Se noi non miriamo È più ampio Ok Quindi avete più probabilità Di colpire effettivamente L'avversario Però con il danno ridotto Ok Se invece voi mirate I colpi vanno dritti Tutti Contro l'avversario 61 Vedete Sarà sempre meno Se voi non mirate Quindi quando mirare Se siete da questa distanza Ragazzi 53 Ok Vediamo 47 Cioè vedete Se mirate con il pompa Il danno è quasi sempre più elevato Ok Però Cioè logico dire Che avete un po' meno reattività Ok Se dovete pre-fireare un nemico Logico dire Che potete mirarla Se la mirate ragazzi Il danno è molto più elevato Quello che vi voglio far capire Ragazzi Quando mirare con il pompa E quando non Se dovete giocarvela di pre-fire Quindi che sapete Che il nemico esce da quella porta Voi miratela E sparate Il danno sarà sempre più elevato Rispetto a quando voi non mirate Beh ragazzi Detto ciò Spero che il video vi sia Stato d'aiuto Vi sia piaciuto Mi raccomando Supportatemi con un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Qui è tutto da Rampigianomaly raga Bella